Un nuovo quadro allarmante sullo stato di salute economico degli italiani lo traccia l'ultimo rapporto Eurispes. Il 53,5% dei nostri connazionali afferma infatti di non essere più in grado di sostenere adeguatamente il proprio nucleo familiare. 37,1% poco, 16,4% per niente, quasi i due terzi dei lavoratori, 61,3%, affermano che l'attuale occupazione non permette loro di sostenere spese importanti, quale l'accensione di un mutuo o l'acquisto di un'automobile. La famiglia d'origine resta rifugio e fonte di sostentamento per quasi il 30% dei lavoratori. Il 73,4% nel corso dell'ultimo anno ha poi constatato una diminuzione del proprio potere d'acquisto, il 31% molto, il 42,4% abbastanza. Il 22,2% ha riscontrato in misura contenuta una riduzione del proprio potere d'acquisto e solo il 4,4% per niente. Del resto solo un italiano su 20 si dice sicuro di riuscire ad accrescere i propri risparmi nel corso del 2013. Al contrario due italiani su tre sono pressoché sicuri che non riusciranno a mettere nulla da parte. Nell'anno in corso più di due famiglie su tre sentono poi che il peso del fisco è aumentato nel corso dell'ultimo anno. Per il 41,7% nel 2012 l'incremento è stato netto, mentre un altro 27,5% ritiene che il fardello fiscale sia un po' cresciuto complessivamente, quindi il 69,2% ritiene che il prelievo sia aumentato. Intanto l'indagine della procura di Siena sullo sfacelo finanziario del Monte dei Paschi e sull'acquisto di banca Anton Veneta sta prendendo una piega sempre più pesante per gli ex dirigenti dell'istituto. L'ex presidente Mussari, l'ex DG Vigni, l'ex capo dell'area finanziaria Baldassarri e i suoi più stretti collaboratori potrebbero essere accusati di associazione a delinquere per aver truccato volutamente i conti e il prezzo d'acquisto di Anton Veneta. Obiettivo, come ormai è noto creare una plusvalenza di oltre 2 miliardi di euro. Per realizzare il loro piano i passati vertici del Monte dei Paschi avrebbero goduto della sponda del Banco di Santander, titolare della maggioranza di Anton Veneta, acquistata nell'ottobre 2007 per 6,3 miliardi di euro e ceduta ai senesi un solo mese dopo per 9,3 miliardi, al quali va aggiunto un altro miliardo di oneri e soprattutto tutto il percorso seguente, fatto delle spericolate operazioni sui derivati e altre manovre per cercare di colmare la voragine aperta dei conti che alla fine hanno portato la banca sull'orlo del collasso. La Procura, che anche nella giornata odierna ha ascoltato alcuni testimoni, tra cui il presidente della fondazione MPS Gabriello Mancini e l'ex presidente dello IOR, Ettore Gotti Tedeschi, non esclude anche un sequestro conservativo di fondi per oltre un miliardo di euro. A tutto questo, inoltre, va aggiunta l'apertura di un fascicolo contro i gnoti, anche presso la Procura di Trani, che invece indagherà sull'omessa vigilanza di Banca Italia e Consob. Ad innescare la nuova inchiesta all'esposto dell'Adusbef, i reati ipotizzati sono quelli di truffa, manipolazione del mercato e aggiotaggio.